delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su youtube unisciti al nostro grido i miei soldi li gestisco io buonasera a tutti buon inizio di settimana e ben ritrovati con le sessioni della nostra nuova trading room questa sera si parla di azioni e quindi quando si parla di azioni c'è con noi il nostro top trader paolo zambarvieri buonasera paolo ciao samuele buonasera a tutti anche da parte mia oggi sì come dicevi tu andiamo a parlare di un argomento secondo me molto interessante soprattutto dal punto di vista educativo perché parliamo di spin off ovvero un processo aziendale che non si vede molto nelle sedute borsistiche però ci tenevo ecco a entrare proprio come come relatore di questo webinar proprio per capire un po come funziona questo spin off ma soprattutto se ovviamente c'è l'opportunità anche di guadagnare qualcosa con le aziende appunto che hanno effettuato diciamo questa cooperazione ecco tutto qua ottimo quindi passiamo subito all'operativo prendiamo la nostra tvs e prendiamo anche in considerazione paolo direi di iniziare da xlc ovvero l'etf dei conduttori no delle comunicazioni delle comunicazioni scusami allora perché chiaramente andando a parlare poi delle due aziende no che hanno partecipato a a questo accordo no di questo spin off ovvero a tnt e e discovery rientriamo proprio in questo etf che giustamente ci stai facendo vedere tu samuele che fa riferimento proprio al paniere no di quei titoli che creano questo questo etf delle comunicazioni è un etf dove al di là di attenti e discovery troviamo anche altri nomi molto importanti molto famosi tra cui facebook tra cui netflix per esempio ecco due dei più grossi che fanno parte del paniere e è un settore questo che ormai da praticamente più di sei mesi ha un trend discretamente negativo ha provato poi un rimbalzo intorno alla fine di marzo 2022 un rimbalzo che secondo me è un pochettino già raggiunto il suo livello perché vedete proprio adesso bravissimo samuele che ci segnala quella supporto dove ha trovato un po' diciamo una un adagio a livello di prezzo proprio xlc la ripartenza ha toccato livelli in area 71 dollari più o meno adesso un po' questo storno sicuramente un po' dovuto anche alla discesa recente dei mercati proprio della scorsa settimana in occasione un po' delle delle notizie della della fed un dal punto di vista tecnico un incrocio ribassista con con il macd vedete che si è formata già la la parte la prima candela il primo histogramma negativo proprio sulla sull'indicatore che ci dà il timing quindi probabile magari un ritest dal punto di vista tecnico proprio a quel livello di supporto che intelligentemente proprio è proprio tracciato ecco questo è un quasi diciamo un non dico un paradosso assolutamente ma volevo proprio fare una un confronto con un'immagine che ti spedivo che guardavamo prima insieme a te samuele ovvero bravissimo questa dia di del settore delle comunicazioni appunto questa che vediamo è un'analisi statistica che sono andato a recuperare proprio sul sito eh equity clock dove ehm eh si recuperano appunto eh quelle performance medie eh in percentuale che durante l'anno vanno a realizzare diversi settori tra cui appunto eh il settore delle comunicazioni un po' eh per capire la stagionalità cioè quel periodo in cui appunto quel settore dà le migliori performance tipo eh gli hotel alta e bassa stagione no quando andiamo ad esempio d'estate negli hotel eh tendenzialmente i prezzi sono più alti ecco noi cerchiamo questo è un paragone molto basico ma che secondo me eh fa intendere bene cerchiamo proprio di trovare momenti migliori in cui accedere in quel settore o magari proprio a prendere delle azioni che fanno parte di quel settore perché abbiamo questo vantaggio statistico in particolare dicevo un po' quasi un paradosso ma in realtà che vado a spiegare subito perché secondo me è una cosa molto importante anche questa da tenere in considerazione vedete che eh se andiamo proprio all'inizio d'aprile con con il grafico ecco che ci troviamo proprio di fronte a noi come ci segnala con la manina proprio Samuele vedete che questo può essere sicuramente un buon momento no per entrare all'interno di questo di questo comparto di questo settore perché ha una stagionalità molto lunga cioè addirittura comunque anche volendo già a inizi di gennaio può essere un buon momento no per accedere all'interno appunto di eh questo comparto il problema qua è essenzialmente uno che eh come eh ne parlo spesso anche nel trading club pro delle azioni eh purtroppo questa diciamo questa eh statistica stagionale come per le commodity soprattutto per le commodity sia un po' erosa secondo me sia un pochettino erosa anche qua sulle azioni perché ehm se vi ricordate al ad aprile fine marzo aprile no del duemila e venti quindi appena post diciamo primo lockdown il mercato poi era ripartito a fiamma quando eh chiaramente poi aveva lasciato circa in un mese eh più di un trenta per cento di di ribassi no per cui eh questa statistica secondo me sia un po' erosa proprio eh prendendo quelle forti ripartenze che abbiamo avuto proprio nella eh nel duemila e venti eh in occasione della diciamo del primo lockdown e della prima ripartenza proprio post post covid eccola lì questa è stata la discesa e poi la super ripartenza qua stiamo vedendo SPI quindi l'ITF dello Standard & Poor's vedete che secondo me poi è una statistica che si è rivoluzionata molto appunto con questa velocità di 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 trend di ripartenza positiva che ha avuto il mercato americano ehm abbiamo parlato eh di settore di comunicazione di questa stagionalità io direi a Samuele se ti va ad andare a fare un giro all'interno del fondamento dell'explorer eh così andiamo a vedere a TNT eh parliamo proprio di società eh diciamo che è chiave ecco per quanto riguarda eh questo questo spin off che poi chiaramente vi spiego di cosa si tratta e eh ovviamente vediamo anche qualche soluzione soluzione operativa sì ci mette un pochettino tendenzialmente il fondamental perché è ancora una funzione in beta ve lo faccio presente ecco quindi non spadentatevi se ci metto un attimo a caricare i dati anche perché ci permette proprio questa funzione non trovare proprio tutti i dati fondamentali che ci servono dagli utili ai dividendi al price earnings agli earnings per share proprio per valutare eh la società che abbiamo di fronte ecco ehm partiamo dalla capitalizzazione di quasi centoquaranta miliardi di dollari quindi non sono bruscolini infatti una delle società eh molto più importanti ecco che fanno parte del eh degli Stati Uniti ad America è una società che eh operando nel settore delle comunicazioni ultimamente si sta spingendo molto proprio eh nella parte del 5G quindi eh di queste nuove reti che pian piano si stanno sviluppando un po' il tutto il mondo di fatti questo spin off si parlava proprio di un accordo di un compenso in contatti per TNT eh di quaranta miliardi di dollari eh a quanto pare già il CEO di TNT ha comunicato a tutti gli azionisti o comunque ecco chi eh fa parte un po' del mondo delle comunicazioni che queste entrate questi compensi eh saranno spesi per la maggior parte proprio per ehm velocizzare no proprio questa ascesa della della rete 5G di cui appunto TNT sarà sicuramente uno dei punti chiave una delle aziende fondamentali per per quanto riguarda l'utilizzo di questa tecnologia. Andiamo a vedere la sezione dei dati finanziari Samuele che così eh ti faccio spostare anche sulla destra sul il dato annuo piuttosto che lo trimestrale che almeno lo andiamo a vedere un po' più sul lungo termine. Qua ti chiedo di buttarti subito circa metà pagina verso una voce che è la net in camera le entrate nette utile nette. Ci sei quasi. Bravissimo. Ecco apri dagli un clic e così vediamo un attimo un po' più in in ecco qua in maniera più approfondita perché eh quello che vi faccio presente è che questa è un'azienda che eh fa utili. È un'azienda che fa utili in particolare abbiamo il dato di eh 15 miliardi. 15.14 miliardi che dovrebbero essere riferito proprio al 2017. L'unico dato in negativo è stato quello di meno e eh 2 e 86 miliardi che il dato che trovate sulla destra di questa pagina proprio in occasione eh del eh dell'anno del covid. Quindi è proprio un dato che diverse società hanno riportato a livello di entrate perché hanno avuto difficoltà proprio con eh con col coronavirus. Per quanto riguarda invece il duemila e ventuno che invece è il dato ultimo che troviamo riportato di trentadue punto sette miliardi è sicuramente un dato molto molto importante è una crescita di più mille per cento rispetto alla perdita dell'anno precedente quindi un'azienda che comunque gli utili li fa. Un duemila e ventidue come prospettive leggermente in discesa però un duemila e ventitré e ventiquattro poi con potenziale crescita quindi comunque un'azienda in questo momento solida aveva eh secondo me qualche difficoltà appunto con l'anno del covid però si è diciamo ristabilizzata molto molto bene. Saliamo al volo un attimo che andiamo a vedere altri due dati importanti nella sezione indicatori chiave eh che ci permette questa sezione ad andare a visualizzare quello che è il price earnings che è il primo dato che vedete proprio in corrispondenza pie pie normalized di 724 questo è un dato molto interessante il price earnings stabilisce diciamo un po' quello che è la sottovalutazione no del titolo che stiamo eh andando a considerare e eh questi livelli di price earnings vanno proprio a definire una eh una una società con un prezzo in questo momento eh sottovalutato rispetto ha un suo prezzo più eh diciamo ottimale rispetto a quelli che sono i concorrenti del settore per cui un ottimo dato eh andrei a dare un'occhiata anche al EPS quindi al EPS quindi all'orex per share scendiamo un pochettino ti dico subito dove lo trovi Samuele vai ancora un po' vai ancora un po' ci sei quasi guarda EPS il primo eccolo lì perfetto guarda benissimo ecco questo è un altro dato che ci permette di capire la sottovalutazione ehm in questo caso per diciamo noi per valutare un'azienda sottovalutata tecnicamente il pie deve scendere e l'EPS deve salire eh sul pieno non avevamo non avevamo dei grossi dati di confronto in questo caso l'EPS sale quindi abbiamo già un buon dato per capire che questa azienda in questo momento è sottovalutata due ultimi dati che guardiamo qua sotto scendi un pochettino andiamo a vedere il ROA che è quello che trovi quasi sotto lì bravissimo un ROA è un ROA anche qua in crescita di un 399 contro i 5 anni di un 2 4 quindi un buon dato e il retorno in equity quello sotto dobbiamo vedere se anche qua è in crescita un 12 contro un 7 in media di 5 anni quindi direi che è un bel dato e sicuramente un buon prezzo in questo momento per eh poter valutare un acquisto di AT&T un ultimo dato che è uno dei dati più importanti sono i dividendi sali tutto in alto eccolo lì dividendo perché qua parliamo di un'azienda che paga un otto sessantadue per cento di dividendo anno quindi davvero un dividendo da re in questo caso infatti se non ricordo male AT&T fa parte della ehm della delle azioni di Istocrazia cioè azioni che eh negli ultimi vent'anni hanno aumentato i dividendi vado a ricontrollare su la Istocrazia ma sono sicuro diciamo al 99,9 per cento vado a memoria ma sono praticamente sicuro ehm quindi un'azienda secondo me molto interessante eh vi parlo di spin off in modo tale che capiamo intanto che cos'è allora diciamo che eh lo possiamo definire come una uno scorporo di un'azienda no da parte del business di un conglomerato societario e c'è la costituzione e la realizzazione di una nuova società questa eh nuova società eh la troviamo come ticker VBD che è proprio eh qua sotto ha ciò che ci mostra Samuele la società si chiama Warner Bros Discovery perché è proprio diciamo una combinazione del business tra AT&T e Discovery Discovery la conoscete penso anche io un po' tutti perché anche su la nostra rete diciamo la troviamo eh diciamo un accordo questo da circa 40 miliardi di dollari e eh una cosa molto importante soprattutto per chi aveva già mercato AT&T non vi spaventate quest'oggi perché chiaramente vedete un livello di prezzo differente rispetto alla chiusura di venerdì vi ricordo che questo meno diciannove quattordici è fittizio signori e vi spiego il perché perché chi aveva le azioni di AT&T ehm diciamo eh la piattaforma in automatico vi ha fornito eh lo eh per ogni azione di AT&T zero punto ventiquattro diciannove diciannove dician sette azioni di VBD facciamo un esempio io avevo eh per la mia una prova sul conto sul conto simulato avevo cento azioni di AT&T me ne sono trovate ventiquattro e e passa in virgola di VBD di questa nuova di questa nuova società anche qua non fatevi ingannare del grafico perché sul passato non ha volumi questo grafico qua il primo giorno diciamo di quotazione è oggi quindi il suo IPO effettivo è proprio questo che eh trovate con la candela vera di oggi è il prezzo che chiaramente si andrà a stabilire con la chiusura della giornata ora quali sono diciamo gli aspetti pratici per quanto riguarda questo questo spin off e questa analisi allora leggevo eh diversi dati statistici in questo caso perché tecnicamente eh sul breve periodo AT&T io personalmente non lo valuterei perché appunto tramite questi dati il titolo che fa lo spin off perde il valore nel breve periodo per cui proprio in questo momento non lo traderei pur avendo comunque degli ottimi dati dal punto di vista eh fondamentale eh io ci starei un attimo alla larga eh per di più tra poco avrà anche gli earnings eh quindi eh che non ricordo male sono il ventuno bravissimo Samuele che eh sei stato super preciso e puntuale per cui io personalmente ora come ora non lo tratterei ma eh magari rivalutarlo anche tra qualche mese può essere sicuramente una buona azione perché non penso che il prezzo si dischiò di molto da questo da questo livello visto che è una società che non fa grossi movimenti di volatilità anche per il grosso pagamento di cedoli di dividendi per cui sicuramente da rivalutare magari tra qualche mese e sicuramente post earnings magari anche con l'utilizzo delle opzioni utilizzo delle opzioni che in questo momento altra piccola nota magari lo facciamo vedere anche con te Samuele non le troviamo a disposizione all'interno della piattaforma per il semplice fatto che dopo una qualsiasi operazione societaria tendenzialmente c'è un ricalcolo del derivato delle opzioni per cui anche qua dobbiamo aspettare un attimino ma potrebbe essere un'idea magari la vediamo anche insieme in qualche altro episodio proprio qua insieme a voi delle trading room o nel trading club azioni appunto eh dove appunto insomma possiamo magari andare a vendere una put naked una put nuda con l'obiettivo di avere un'assegnazione per poi ovviamente mantenere a mercato cento titoli long della società ecco questo un po' in sintesi quello che penso e non so Samuele se sono stato chiaro se eventualmente c'è qualche domanda mi prendo anche un qualche minuto in più per rispondere guarda dal mio punto di vista Paolo assolutamente chiaro e al momento non abbiamo domande se non una richiesta diciamo particolare per quanto riguarda alcuni dati e l'utilizzo e l'interpretazione del fundamental explorer sì eh io eh diciamo che a questo punto non per dilungarci troppo anche con la sessione eh rimanderei diciamo a Maurizio a vedere anche all'interno eh della della nostra academy il trading club azioni c'è anche un coupon un codice sconto attivo del 50 per cento sul primo acquisto utilizzando il codice sconto new trading room lo troverai poi sotto la registrazione di questa sessione dove Paolo nel trading club pro azioni va a spiegare in maniera comunque molto dettagliata l'utilizzo e anche i riferimenti ovviamente tutti i parametri per comprendere al meglio e analizzare al meglio a livello fondamentale una azione una società eh quindi eh sarebbe diciamo secondo me la cosa più ideale sì sicuramente sì Samuel perché comunque io lo uso sempre poi all'interno delle delle sessioni del trading club visto che è la è un nuovo strumento che ci affrenderà anche secondo me molto completo piuttosto che andare su svariati siti eh come ad esempio non so un sparo è una IAU finance per dirti no che comunque ha dei dati completi qua si trova tutto tutto portato di mano è gratuito quindi eh assolutamente anche per Maurizio se eh se ti piacciono le azioni o comunque vuoi scoprire un pochettino di più anche io ti rimando al trading club dove sono sempre un po' più preciso ecco qua cerco di essere un po' più schematico in modo tale che tutti mi capiscano ecco molto bene Paolo e poi essendo ovviamente eh diciamo uno spazio la nuova trading room molto atta all'operatività sicuramente appena eh le opzioni su AT&T e saranno nuovamente disponibili faremo eh diciamo riprenderemo l'argomento mettendo anche a mercato un qualcosa di molto interessante. Certo allora eh un'ultima cosa su ehm la nuova società eh VBD le trovate le opzioni ehm anche lì su IPO aspettare un attimo fare un investimento di sottofondo un po' tutte le curve classiche di equazione IPO per cui piuttosto mi metto a disposizione assolutamente anche per voi quando sarà il momento andiamo a riparare di AT&T e facciamo qualcosa di proprio più pratico però era un argomento sicuramente molto importante che può essere utile a tutti a tutti per il futuro insomma. Li inseriamo entrambi nella nostra watch list. Grazie Paolo e grazie a tutti per essere stati con noi anche questa sera ci sentiamo mercoledì con nuovi argomenti e lasciamo spazio alle vostre domande all'interno della nostra Academy. Grazie a tutti buona serata. Ciao. Ciao. Ciao.